ciao a tutti oggi prepareremo la confettura di fragole il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono fragole lavate tagliate in maniera grossolana mela tagliata a pezzetti succo di limone e zucchero semolato andiamo via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le fragole le mele lo zucchero e il succo di limone chiudiamo con il coperchio senza il misturino al posto del misurino posizioniamo il cestello per evitare la fuoriuscita di schizzi e azioniamo il bimbi per 50 minuti 90 gradi velocità 1 questo conto azioniamo il bimbi per 15 minuti temperatura varoma velocità 2 la confettura di fragole è pronta trasferiamoli in dei vasetti che abbiamo precedentemente sterilizzato con chiusura ermetica e ancora calda ruotiamoli sottosopra e lasciamoli a testi ingiusti nel completo raffreddamento per creare l'effetto sottovuoto confettura di fragole la confettura raggiungerà la giusta consistenza quando si sarà raffreddata confettura di fragole grazie e alla prossima ricetta confettura di fragole grazie a tutti